gildarella gildarella ma quanto sei bella pure oggi dai io sono sempre bella che ci racconti dice che ci vuoi fare De Bono allora oggi faccio queste soiolette che ce l'avevo congelate eccole qua queste erano quelle surgelate le avevo comprate proprio surgelate e oggi non sapevo che fa e ora le fa e le abbiamo fatte scongelare sì sì le ho fatte scongelare ecco le ho asciugate tutte quante per bene e adesso le faccio panate allora tre uova allora queste sono tre uova ecco qua allora io il sale non lo metto perché lo metto dopo che l'ho cotta ci metto il sale lo dico allora adesso metto un po' di prezzemolo questo è quello secco e ci metto pure un po' d'aglio di questo granulare eccolo poco poco così insaporiamo il pangrattato allora il pangrattato questo è un po' di quello giallo e un po' di quello arancione che io c'avevo eccolo qua l'ho mischiato comunque lo trovate nei supermercati sono tutte bustine trasparenti da 200 grammi credo che sia va bene io adesso perché l'avevo messo nel barattolo e non mi ricordo come si chiama ok allora vabbè comunque poi potete usare il pangrattato che vi pare ah ecco anche il pangrattato normale anche il pangrattato normale ecco qua allora adesso passiamo la sogliola nell'uovo e poi nel pangrattato ecco qua voilà ecco fatto tanto adesso questo ce l'hanno quasi tutti i supermercati voilà ecco fatto ecco qua friggiamo eh io ho messo olio di girasole eccolo qua mamma mia che godura guardate come friggono eccole qua guardate che belle guardate che belle sogliolette raga ecco qui ho tritato un po' di prezzemolo e adesso eh beh oh mettiamo una cosa che carino guardate un po' e dopo portataula si devono presentare bene che dici ecco vedete vedete una fettina un amore raga guardate eh ecco fatto un piattino semplice ecco ma godurioso e poi guardate che carino con ste fette di limone è qua è certo un amore girare un amore proprio lo taglio a metà ecco qua io questo è solo un bellino pochetto è un bel carino ecco fatto invece te fai i soliti spicchi di limone ecco guardate che meraviglia ecco fatto uno spettacolo proprio carino tanto il limone è lavato l'ho lavato ecco fatto ci mettiamo questo e via e questo lo mettiamo qui al centro va bene ecco fatto ecco qua amori miei allora adesso noi ce le andiamo a mangiare guardate che belle semplici da fare e poi sono croccantissime invece di uno di comprarle quelle già panate se le fa a casa che so più buone ecco fatto belle scrocchiarelle guardate guardate belle scrocchiarelle una bontà raga fatela perché sono proprio buone svelte svelte poi allora amori miei adesso vi mando tanti baci belli sempre dal cuore e dalla cucina di Gilda e vi amo tutti lo sapete e piatto ricco e mamma mia piatto ricco chi è? meceficco no 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 no